Secondo te perché ho accettato? Per tuo fratello. Ho visto come hai guardato Cypher e ho capito che volevi vendicarti. Felice di averlo fatto. Non ho parole, sei andato da mia madre. Tutto questo trambusto per te. Sì. Elena, ti prometto che il nostro figlio sarà al sicuro. E da oggi lo sarà per sempre. Voglio presentarti la persona più importante del mio universo. Lei non mi ha mai abbandonato. È bellissimo. Ho sempre detto che non si voltano le spalle alla famiglia. Quindi vi ringrazio tutti per non averle voltate a me. Vuoi che ti presenti? D'accordo. Ecco a voi... ...il mio Brian. Vai, Brian. Benvenuto nella famiglia, Brian. Ok, oggi tocca a me dire la preghiera. Grazie per averci dato questa famiglia. Siamo qui riuniti per ringraziarti della forza che ci dai anche nelle tempeste più terribili. Grazie per averci dato la visione. Ciao.